Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sullo stesso tratto fare attenzione per nebbia a banchi così come tra Valdarno e Chiusi e sulla Fipili tra Empoli e la diramazione per Pisa. In A15 per lavori possibili disagi tra Berceto e Pontremoli. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Sulla statale 64 Porrettana nel comune di Pistoia restringimento di carreggiata all'altezza della Galleria del Signorino. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!